Il trono giovani annaspa a uomini e donne, soprattutto la componente femminile per molti dei fan in rete, avrà una durata brevissima all'interno del programma. Francesca Sorrentino ha interrotto a giugno la sua relazione con Manuel Maura, un amore a tratti tossico e malato, che l'ha portata ad annullarsi quasi del tutto permettendo alti e bassi e un comportamento molto più libero e spensierato all'ex. A detta sua e di Maria De Filippi, a due mesi dalla rottura, si è sentita pronta per ritrovare l'amore nel popolare dating show. La sua collega Martina ha chiuso a Temptation Island la sua relazione con il fidanzato Raul. Ha provato fino a qualche settimana fa a conoscere il single Carlo, ma non se l'è sentita e quindi ha deciso anche in quel caso di interrompere. Le due appaiono assolutamente fredde e per nulla con i piedi per terra. Nessuna conoscenza a tre puntate dall'inizio sembra proiettata a crescere ed evolversi. Entrambe a due mesi dalla fine di una storia così importante. Sono davvero pronte a conoscere altre persone in contesto televisivo? Oggi Francesca Sorrentino è scoppiata in lacrime, parlando di un'ansia che non le permette di vivere questo percorso come i suoi colleghi, con voglia di conoscere i ragazzi e lasciandosi andare. In realtà anche la collega Martina de Ioannon appare tutt'altro che focalizzata verso il suo obiettivo. Per sommi capi vi abbiamo enunciato il loro passato sentimentale che per quel che riguarda le ultime relazioni è stato mostrato pubblicamente in tv. Entrambe hanno un unico problema in questo momento. Non sono pronte a lasciarsi andare come dovrebbero. Francesca appare palesemente ancora scottata e forse anche coinvolta dalla sua precedente relazione. Martina, forse, si è fatta prendere dalla foga del momento, accettando una proposta indubbiamente ghiotta. Chi direbbe mai di no a Maria de Filippi? Nei suoi momenti a centro studio è come se fosse presente fisicamente, ma assolutamente altrove col resto. La verità dei fatti è che ormai è sempre più difficile vivere emozioni come una volta, dettate dal reale interesse di due ragazzi giovani che escono e si trovano bene coltivando l'inizio di un sentimento. La volontà della padrona di casa di accontentare le volontà del pubblico e di dare una possibilità nuova a volti che hanno contribuito al successo di altre sue trasmissioni, come in questo caso Temptation Island, forse non è la giusta strategia. Il trono giovani rischia di trasformarsi in una vetrina inconsistente che vede ogni percorso già stroncato sul nascere, dettato da volontà intenti che forse non combaciano proprio al massimo con quello primario del programma, innamorarsi e uscirne in due.